Un editorio attento e numeroso è stato quello che ha partecipato nei giorni scorsi all'incontro promosso dal Comitato Settimo Centenario della morte del Beato Angelo da Casale sulla spiritualità femminile nel 2000 a confronto con un uomo eremita del Trecento. L'iniziativa si è svolta nella Chiesa di Santa Maria dei Raccomandati in Gualdotadino. Tre suore di ordini diversi hanno dialogato con la giornalista Cinzia Tini, direttrice del TRG, sul tema di spiccata attualità e coinvolgenti, come pochi potevano immaginare. Suor Pamela Ercoli, vice generale delle suore oblate e del Bambin Gesù, che si ispirano alla spiritualità agostiniana, Suor Francesca Farina, superiore generale delle missionarie francescane, Suor Noemi Scarpa, madre badessa del monastero Benedettino di Sant'Anna di Bastia Umbra, tre ordini di religiose che hanno lasciato il segno nella città. Hanno delineato i principi su cui basare una moderna spiritualità coniugata al femminile. Al termine dell'incontro è stata presentata dal vicepresidente del comitato Sergio Ponti la nuova collocazione della cattedra Vescovile, disegnata da Ulisse Ribustini, per la cattedrale di San Benedetto e ora ripristinata per la chiesa dedicata alla Madonna in Corso Italia. Tutta l'opera di Ribustini sarà oggetto di una apposita mostra che si terrà nel mese di settembre. Noi dobbiamo anche valorizzare le cose belle che abbiamo, che sono patrimonio di tutti, perché ci fanno crescere. Ci fanno crescere un po' nella fede, un po' nella cultura, un po' nello spirito, un senso lato. Ecco, questa secondo me è una cosa bella, è una cosa che valeva la pena non tenere nascosta dove stava, impolverata, e valeva la pena trovargli una collocazione. Questa è una chiesa che è uno scrigno di qualdesità, ma è uno scrigno di cultura e oggi ci avrà un momento in più per poter essere ricca, un momento in più per poter essere bella.